Buonanotte signora, buonanotte No, non possiamo ripetere perché se ripetiamo la legge è uguale per tutti Hai pensato Allora fischi per la signora Allora la signora adesso dovrà fare una piccola penitenza Dovrà salutare tutti con la voce La voce lenta Ciao a tutti No, no, meglio più Ciao A tutti A tutti E facciamo un applauso simpaticissima alla signora che Allora nel frattempo noi ci stringiamo così Viene meglio la giuria E iniziamo il vero gioco Perché questo era il livello diciamo per i figli handicappati Mi cercava pure dirlo Mi sembrava pure pane Invece andiamo a quel livello serio Voi non dovete fare